Ciao a tutti, allora, è l'ennesimo capitolo di Outlast, eravamo arrivati a questa situazione qui, pensavo di dover aprire questa porta, ma mi sono guardato un attimo intorno e in verità l'unico modo per salire è qui. Adesso io riesco anche a fare l'acrobota un pochettino, quindi in definitiva il gioco ci ha portato a una situazione che viene più totale, abbiamo incontrato un sacco di Ennevido e anche un fratto di gioco. Scusate. Gora! Gora! è dobbiamo correre cioè spostare velocemente il modulo e correre perché ci sono i fratelli siamesi lì che ci fiscano che la dobbiamo fare mi? 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 i i i i i i i i ... ... ... ... ... Oh, il cane's coming, and you can't stop me! In 3, i fratelli cemegi hanno parturito, un piccolo cemegino, in 3 mi sembra averne visto i 3, almeno che non ho la destinazione, stare in questo posto sarebbe del tutto non possibile. Oh, il cane! Oh! Oh, il cane! Come around! A un petto piece di shit! This guy's a superman! I don't want to kill him! I don't want to kill him! Come on. Come on, come on, come on! Sì, sì, sì! 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 ! ! ! ! Sì! ! ! ! ! ! ! ! ! Sì! ! 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 La pargolo? La pargolo? La pargolo? Che fai? Mi fai nato la pargolo? Ci salutiamo qua, alla prossima Ciao!